benvenuti in un nuovo video per la serie affitti brevi in 30 giorni questo un video un po più particolare magari un po più avanzato perché si parla di partita iva abbiamo visto nei video precedenti che non è obbligatoria d'aprire è uno dei pochissimi business se non l'unico business che puoi realmente fare in maniera 100 per cento legale pur non avendo una partita iva e se non sai il perché vatti a vedere tutta la serie affitti brevi in 30 giorni perché ne abbiamo parlato ampiamente però andiamo a capire quando è conveniente aprire una partita iva per affitti brevi che ripeto non è obbligatoria quindi può essere anche magari più conveniente non è detto che tu debba aprirla innanzitutto partiamo dal presupposto che la gente ha paura di aprire la partita iva perché perché la nomea la leggenda metropolitana della partita iva è che ti faccia pagare un sacco di tasse sì ma non sempre diciamo così sì ma non sempre nel senso che una partita iva ordinaria sicuramente ha una pressione fiscale importante ma la partita iva forfettaria che si può aprire sino ad un guadagno di circa 85 mila euro l'anno invece dei dei costi molto vantaggiosi ragazzi 85 mila euro l'anno comunque sono diverse migliaia di euro al mese di preciso io la matematica non siamo bravissimi ma se uno fa 85 mila euro l'anno significa che al mese fa una media di 7 mila euro di fatturato se questo fatturato viene ad esempio generato come property manager dove praticamente non hai costi sono 7 mila euro praticamente puliti che ti metteresti in tasca devi pagarci queste tasse che adesso vedremo però significa che con un forfettario puoi arrivare tranquillamente a metterti in tasca 5 mila euro netti se non anche di più quindi comunque ragazzi 5 mila euro netti con un'altra stazione bassa è un ottimo vantaggio ed ecco perché dicevo prima non è obbligatorio aprire la partita iva ma talvolta può essere vantaggioso mi sono segnato qua un po di appunti per non dimenticarmi niente detto ciò l'ordinaria non la andiamo a trattare perché ripeto è un tema troppo complesso dentro bmb academy abbiamo dei video realizzati con lo studio allievi che è il nostro studio di commercialisti partner quindi sia forfettario che ordinario che forma non imprenditoriale viene analizzata in maniera veramente sarei dire estenuante cioè nel minimo dettaglio ma per fare un riassunto oggi ci focalizziamo sulla forfettaria forfettaria che viene anche chiamata comunemente regime dei minimi cioè è veramente molto conveniente ma rispetto alla cedolare secca che abbiamo visto essere dal 21 al 26 per cento quanto si paga di tasse beh si paga il 5 per cento ma non il 5 per cento di tutto quello che tu hai incassato ma il 5 per cento del coefficiente di reddittività ora giusto per complicare un po le cose in italia hanno detto in base alla tipologia di lavoro che tu fai paghi le tasse su un tot per cento se ad esempio fai il medico faccio degli esempi veramente a caso se fai il medico pagherai le tasse sul 70 per cento se fai subloccazione pagherai le tasse sul 40 per cento se fai property management pagherai le tasse sul 60 per cento quindi quando noi parliamo di 5 per cento non è il 5 per cento di tutto quello che voi guadagnate ma il 5 per cento di un determinato coefficiente di reddittività un grandissimo vantaggio pago il 5 per cento di una parte di ciò che realmente incasso lo svantaggio dall'altra parte è che non si scaricano le spese quindi non è che io vado a dedurmi l'iphone che posso essermi comprato o un eventuale auto aziendale però chiaramente questo è diciamo il contro di avere una tassazione così agevolata ma comunque rimane molto conveniente anche perché soprattutto in property management lavorando ad investimento zero praticamente noi non abbiamo costi dall'altra parte come dicevamo all'inizio abbiamo un limite di fatturato che è stato recentemente innalzato a 85 mila euro prima era se non ricordo male 65 mila euro quindi hanno aggiunto un 20 mila euro in più di range che si possono fatturare con la forfettaria e il grandissimo vantaggio che praticamente ti porta a pagare zero a parte il commercialista è soprattutto se è già un lavoro da dipendente che ti paga i contributi inps perché dico ciò perché ovviamente quando hai la forfettaria devi pagare anche i contributi inps in percentuale o con un importo fisso ma se la forfettaria te la apri diciamo come secondo lavoro e hai già un lavoro da dipendente che ti paga i contributi a quel punto i contributi non devi pagarli e letteralmente paghi due lire di tasse ma un grandissimo vantaggio di questo business che non tutti conoscono che si può attuare pur avendo una partita iva profettaria che quindi non permette di scaricare nessun tipo di spesa è quello di invece poter detrarre i costi di pulizia se opportunamente fatturati una circolare dell'agenzia delle entrate infatti dice che se le pulizie sono state appunto fatturate possono essere detratte quindi se io ho fatturato 1200 euro di cui 200 sono pulizie io effettivamente vado a pagare le tasse solo su 1000 euro poi al di là del coefficiente di tassazione che andiamo ad applicare che quindi può essere il 21 per cento in caso di persona fisica piuttosto che 26 per cento o appunto 5 per cento con il forfettario che anche qui arriva sino ad un 15 per cento e ha un limite tra l'altro di 5 anni quindi questa agevolazione in realtà non potete averla per sempre però per 5 anni diciamo che in 5 anni potete raccogliere un bel gruzzoletto il vantaggio in realtà più grande secondo me non è tanto il risparmio fiscale che poi è soggettivo e vi consiglio di parlarne sempre con un commercialista in gamba come lo studio allievi che è il nostro partner ufficiale ma il vantaggio più grande secondo me è quello di avendo una partita iva poter offrire anche servizi aggiuntivi quindi se ad esempio volete offrire un servizio di transfer se volete vendere delle esperienze se volete organizzare un show cooking nell'immobile insomma se volete monetizzare i vostri ospiti con dei servizi extra grazie al fatto che siete titolari e possessori di partita iva forfettaria o meno potete farlo mentre chiaramente come persona fisica voi questi servizi non potete offrirli e non potete lucrare su di essi quindi magari il mio consiglio è di entrare in forma non imprenditoriale per iniziare a capire un po come funziona il tutto e incassare i primi denari per poi magari pensare di fare un upgrade ad una forfettaria giusto per dare un accenno poi ovviamente oltre a una certa soglia può convenire l'aprire una partita iva ordinaria o meglio ancora una srl perché perché ti permette di fare deduzioni di tutte quelle che sono le spese ti permette di separare il tuo patrimonio aziendale dal tuo patrimonio personale la tassazione in questo caso è intorno al 27 per cento solamente sul netto poi ci sono tutta una serie di imposte dirette e indirette e ovviamente ci sono costi fissi maggiori quindi abbiamo in realtà tantissime persone all'interno della community bimbi academy che sono passate ad srl però perché hanno portfogli comunque nell'ordine delle decine se non centinaia di proprietà è un video abbastanza complicato perché comunque trattiamo dei temi che di per sé sono complicati ovviamente in un lasso di tempo molto breve perché su youtube un video non può durare due ore e anche perché abbiamo delle intere lezioni interi moduli e capitoli di ore e ore e ore dove spieghiamo tutte queste cose con dei commercialisti super in gamba studio allievi ovviamente dentro bmb academy quindi se volete maggiori informazioni su bmb academy mi raccomando trovate tutto quanto qua in didascalia iscrivetevi al canale youtube e ci vediamo nel prossimo video a presto grazie a tutti